buongiornissimo oggi ancora metal ancora valgua però quella piastra è nuova come potete vedere quindi magari c'è l'occasione di trovare qualcosa di un po' più specifico e particolare invece dei soliti chiodi medievali mettiamoci al lavoro magari un chiodo di un'asce ok è qui sotto ho molto probabilmente il chiodo di un'asce però ancora qui ancora qui ma è bastardo qua dentro c'è qualcosa graffetta di ligno vuol dire soltanto che qui c'è stata una costruzione di qualche genere non vuol dire niente c'è un armadillo perché c'è più un armadillo guardate non ci credo sì non me ne faccio un cacchio di una roba del genere ma che roba niente direi che questo colpo si rimette al suo posto qui con il sasso coprirlo via non è buio niente 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 oh poco ferroso attenzione poco ferroso esattamente qua ci vediamo che cosa è l'interferenza del telefono vediamo se è già superficiale no dovevo scavare questo qua via donna mia quanta erba oh miseria poco ferroso per forza guardate una cerniera non c'è più niente non c'è più niente oh diavolo io mi ero geluso non c'è più niente non c'è più niente non c'è più niente ma l'ho da 5 cm guarda l'husiamo Speriamo che sia qualcosa di interessante e non fa che ci affeca. Speriamo. Sempre più vicino. Che cavolo è? È una barra di ferro? Non riesco a tirarla su. Guardate. Non si riusciamo a scriverla. Guardate. 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 qui sopra c'è una palestra di arrampicata magari hai qualche pezzo che serve a loro sì guardate è nati di alluminio probabilmente era un di quei paletti che tengono cosa si chiama il corrimano fanno un culo non c'è più niente ok molto poco ferroso esattamente lì proviamolo ma ancora il cazzo era ma chi ha chi viene qua qua in cima a fumare faccio la carta delle sigarette o sarai deficiente fi porca troia che due coglioni niente non c'è più niente qua erano questi che suonavano vaffanculo ecco lo su non sono mai andato c'è anche il sentiero ottimo così non devo spaccarmi le caviglie e camminare qui in mezzo quanta gente che c'è un giro oggi non conto so di escursioni ferroso però dai ce la possiamo fare qua in parte sul fianco c'è qualcosa questo no oh 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 figo la testa di un martello ma guarda che posto assurdo vuoi vedere? vuoi vedere? seguo ancora qualcosa il chioto che andava sulla testa del martello come cazzo è possibile sta roba figo sono contento bello ora guarda un po' cosa abbiamo qua ora guarda un po' cosa vuoi cari non c'è niente ho appena detto che non c'è niente e invece c'è qualcosa adesso non mi segna come mai? si, mi segna ferroso io direi che anche con la poca luce che abbiamo un tentativo lo possiamo fare tanto e come? mi fiumano d'aglio e sono mai rifiuto non so più niente, ottimo no no, sono contento al diavolo stupida grotta non c'è anche qualche pimenta non c'è anche qualche pimenta non c'è anche qualche pimenta mi stai dicendo che? non c'è anche qualche pimenta a vedere che mi segna un oggetto metallico non so che lo sia va certo tutto sudato tirando le somme la stecca di alluminio la testa di martello un pezzettino di ferro l'ultimo che l'hanno tirato fuori il chiodo insieme al martello niente di che la prossima volta che vengo qua devo andare su in cima c'è niente da fare magari abbiamo ancora una botta di culo nel frattempo vi saluto vi ringrazio come sempre state ancora con me anche la prossima volta e ci vediamo al prossimo video ciao